Musica Stamattina sono scesi in piazza i migranti ospiti del centro di accoglienza della città tirrenica. Lasciateci uscire, dobbiamo lavorare. Rallenta il contagio in Calabria. Oggi il bollettino riporta quota più 13, 8 nuovi casi a Cosenza. Dopo l'allarme dei giorni scorsi, Adoppido torna alla serenità. A Varapodio registrati due nuovi casi. Al via i test per l'accesso alla facoltà di medicina in Calabria ci tentano migliaia di studenti. A Catanzaro, 288 posti disponibili. Sei quintali di marijuana e 5200 piantine di canapa indiana sequestrati dalla Guardia di Finanza a Vibo. L'ospedale di Castrovillari è l'unico a possedere il dispositivo che consente ai portatori di pacemaker di operare i controlli senza sottoporsi a visita specialistica. Buonasera dalla redazione TGT. Dunque proteste ad Amantea questa mattina, momenti di tensione davanti al CAS che ospita i migranti che sono scesi in strada per dire noi siamo negativi, dobbiamo continuare a lavorare. Protesta che poi è rientrata ma ci sono stati momenti di tensione che ci racconta Isabella Rocamo. Sentiamo. Questa mattina si sono vissuti davvero momenti di tensione perché in questo ex albergo di Amantea da anni sono ospitati dei migranti. Nella struttura ci sono circa 87 persone, 25 delle quali sono risultate positive al coronavirus più un mediatore culturale. Ci sono stati davvero momenti di tensione però la situazione è tornata alla normalità grazie anche e soprattutto alla mediazione delle pattuglie di polizia, carabinieri e guardie di finanza che sono qui appunto da ieri sera a presidiare l'edificio. A un momento non è ancora arrivato l'esercito, tra pochi minuti dovrebbe arrivare anche l'ASP di Cosenza per effettuare ulteriori indagini proprio su questa struttura, sulle persone che sono ancora ospitate all'interno delle ninfe marine, appunto l'ex albergo che ospita questi migranti. Noi non possiamo avvicinarci proprio per evitare di esasperare gli animi di questi migranti che dopo una lunga trattativa appunto con polizia, carabinieri e guardie di finanza questa mattina sono rientrati proprio all'interno della struttura. Comunque al momento la situazione è questa, vedete ci sono le pattuglie, ci sono gli uomini delle forze dell'ordine che presidiano gli ingressi, chiaramente si deve evitare che queste persone possano uscire e andare in giro per il paese, molti lavorano nei campi, quindi bisognerà aspettare adesso l'arrivo appunto del sanitario della task force dell'ASP di Cosenza per vedere che cosa sarà deciso proprio nelle prossime ore. Bene, da Mantea andiamo a Rende dove in via Svezia, incontrata Santo Stefano, la struttura di accoglienza straordinaria, sono ospitati alcuni migranti, 15 di loro più un operatore risultano positivi al Covid, sono in quarantena obbligatoria, gli abitanti del centro, le porte di Cosenza sono preoccupati perché fino ad oggi non è ancora arrivato l'esercito a presidiare la struttura. Vediamo. Questo che vedete è il CAS di Rende, incontrata Santo Stefano che ospita alcuni migranti, 15 di loro, dopo un ciclo di tamponi disposti dalla task force dell'ASP di Cosenza sono risultati positivi e insieme a loro risulta positivo anche un operatore della struttura. I tamponi effettuati dopo due casi, da cui appunto è partita l'indagine epidemiologica che erano ospiti della struttura rendese e che sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'annunziata di Cosenza. La situazione è sotto controllo dopo che gli ospiti sono stati posti in quarantena obbligatoria su disposizione della prefettura di Cosenza. La polizia provinciale presidia l'ingresso ma gli abitanti della zona si dicono preoccupati. Da quando si è insediato questo centro di migranti abbiamo chiesto di essere controllati 24 ore su 24, ma questo già non era stato fatto perché vedevamo sempre che giravano nella zona. Ma devo dire la verità con molta tranquillità. Da quando è successa questa cosa? Bisogna capire poi se sono venuti da fuori, dicono che due migranti sono venuti da Roscella Ionica portati qui e quindi hanno invettato altre persone. Noi vorremmo capire dove è partita questa epidemia. Noi siamo preoccupati, abbiamo anche un'associazione che si chiama Intraprende, abbiamo chiesto anche al sindaco che ci ha dato le assicurazioni, siamo sempre in contatto anche con l'amministrazione. Devo essere sincero che l'amministrazione ci ha detto che sono sotto controllo, però la paura c'è perché diciamo che c'è l'esercito, ma l'esercito non è arrivato. È una struttura molto grande perché prende da una parte, come vedete, da questa parte qua, però dall'altra parte si affaccia sulla superstrada. Molti dicono che li vedono che escono dall'altra parte. Noi vorremmo che ci sia un presidio da tutta la struttura, non solo dalla parte davanti, ma anche dalla parte di dietro, perché sono in tanti, questi scappano, non sappiamo dove vanno. Dicono che vanno a lavorare, dicono che non vanno a lavorare. Ecco, la paura c'è da parte nostra, abbiamo anche attività commerciali. Vorremmo sapere, noi siamo una comunità molto piccola, ma molto unita. Noi vorremmo delle assicurazioni da parte di tutti. Il Comune ci sta dando una mano, vorremmo anche dalla parte del Prefetto, dalla parte della Regione Calabria, perché ci sono anche delle paure che possa arrivare la zona rossa qua. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo stare tranquilli. La zona rossa è Oppido-Mamertina, situazione in evoluzione, ci sono difficoltà, ci sono preoccupazioni anche a Varapodio. Sentiamo. Come riferito nelle edizioni di ieri, la situazione ad Oppido-Mamertina sul fronte Covid-19 sembra essere sotto controllo. Dopo il focolaio con 13 casi riscontratti nella frazione Messignadi, tanto da essere ritenuta zona rossa, oggi le novità sono abbastanza incoraggianti. I tamponi sono risultati, tranne uno, tutti negativi e oggi si può fare un bilancio più ampio. Su 449 tamponi tutti sono risultati negativi. Nel frattempo a Varapodio, altro piccolo centro della piana di Gioia Tauro, sono stati riscontrati due casi, ma il sindaco Fazolari ha rassicurato c'è una ipotesi di contagio molto ridotta. Chiaramente la situazione viene monitorata dalle autorità civili, ma c'è anche l'intervento della diocesi. Il vescovo di Oppido-Mamertina, Francesco Milito, dice che la responsabilità di ognuno di noi può essere il metodo più giusto, anzi è il metodo più giusto. Per quanto riguarda Oppido-Mamertina, notizia dell'ultima ora, ci sono altri tre positivi al coronavirus proprio nella fazione Messignadi, già dichiarata zona rossa dalla Presidente Santelli. I tre nuovi casi si aggiungono ai 13 registrati in precedenza, sono stati comunicati dal sindaco Bruno Barilaro dalla Prefettura dopo la segnalazione giunta dal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. I nuovi contagi riguardano una donna, un uomo e un bambino, una bambina anzi, non facenti parte dello stesso gruppo familiare. Compressivamente le famiglie poste in quarantena a Messignadi sono 11 per un totale di oltre 50 persone. Nella giornata di domani dovrebbero arrivare risultati di altri tamponi. Adesso facciamo il quadro alla situazione fissato al primo pomeriggio con la fotografia scattata dal bollettino regionale. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 158.698 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.558, più 13 rispetto a ieri. Quelle negative sono 157.140. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 8 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 186 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 8 in reparto, 1 in reanimazione, 46 in isolamento domiciliare, 451 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 290 guariti, 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 12 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valencia 6 in isolamento domiciliare, 84 guariti, 5 deceduti. Da altra regione o stato estero, 161. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture, che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del 7 in fuori regione, 8, e dei migranti, 1, sono stati distribuiti nei reparti di degenza. Complessivamente, i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 8, di cui 5 non sono residenti. Dei 9 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono non residenti. Sempre a Cosenza sono stati intercettati 8 casi, 6 sono riconducibili a contact tracing e per 2 è in corso l'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda Crotone, due positivi sono del Cara e due sono riconducibili al focolaio Sardo. Il positivo rilevato dall'ASP di Reggio Calabria è da contact tracing. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458. Nel conteggio sono compresi anche due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Saranno compresi nel prossimo bollettino, quello di domani, i 7 nuovi contagi che sono stati registrati nel tardo pomeriggio a Corigliano Rossano, dove continuano screening e tamponi. Ci sono 7 co-cittadini, scrive il sindaco Stasi, che sono positivi. Si tratta di persone che hanno avuto contatti frequenti con i casi precedenti, a dimostrazione che il Dipartimento fa uno screening accurato per ogni singolo caso. Per quanto riguarda i positivi, sotto linea Stasi sono in quarantena domiciliare, nessuno presenta sintomi acuti. e lo stesso Dipartimento si sta occupando di continuare a monitorare la situazione per impedire la diffusione del virus. Poi naturalmente Stasi invita alla prudenza, non drammatizzare certo, ma ricordando che non si è in una fase di lockdown e quindi bisogna convivere con il virus, ma sempre con la massima attenzione su tutte le norme di sicurezza, a partire dal distanziamento, a finire all'utilizzo di mascherina. Quindi una questione di comportamento che può evitare il diffondersi del virus. Cambiamo argomento, al via i test per l'accesso alla facoltà di medicina. In Calabria ci tentano migliaia di studenti, a Catanzaro sono quasi 300 i posti disponibili. I test di medicina al tempo del Covid a Catanzaro presso l'Università Magna Grecia oggi sono iniziati rispettando tutte le misure previste in questa fase delicata. Le prove per l'ingresso alla facoltà di medicina hanno interessato 1.154 partecipanti per 288 posti più 20 per odontoiatria. I candidati hanno risposto a 60 quesiti su diverse materie in un arco temporale di 100 minuti. I test iniziati puntualissimi a mezzogiorno ci sono svolti secondo tutte le disposizioni anti-Covid. Infatti erano disposti in 26 aule fra l'edificio di Bioscience e quello giuridico. Pochi minuti per le operazioni di identificazione tra mascherine obbligatorie, anzi caratteristiche, una prova delicata e complessa che rischia di lasciare delusi oltre il 70% dei partecipanti. Dalle prime ore di oggi i ragazzi hanno conquistato un posto nell'area del campus e poi pochi alla volta in fila hanno guadagnato l'ingresso nella struttura che ospita l'Ateneo Catanzarese. Le selezioni si sono svolte in contemporanea anche nelle università di Arcavacata e Reggio Calabria. I pazienti portatori di pacemaker potranno effettuare i controlli senza sottoporsi a visita ambulatoriale grazie ad un innovativo dispositivo in dotazione all'ospedale Castrovillari. Oggi la presentazione del nuovo strumento disponibile nella divisione di cardiologia del nosocomio del Pollino alla presenza del commissario dell'ASP, Bettelini. Vediamo. La colonnina del cuore, dispositivo di ultima generazione che consentirà ai portatori di pacemaker controlli semplici, veloci, autonomi. Una volta messo sul dispositivo non deve fare altro che premere questo pulsante e i dati del pacemaker vengono trasmessi a questo dispositivo che a sua volta poi lo trasmette all'ambulatorio di riferimento del paziente. Appassionati di innovazione si sono definiti sanitari dell'ospedale di Castrovillari dove il dispositivo sarà operativo e collocato nella sala d'attesa della divisione di cardiologia dove da anni è attivo il servizio di telemedicina. Questo dispositivo ha un duplice vantaggio. Il primo, che è particolarmente utile nell'era Covid perché consente un distanziamento dalla possibilità al paziente di evitare le lunghe attese nelle sale d'attesa dell'aspetto dell'ospedale il contatto con altre malate e il contatto anche con gli operatori. Il secondo vantaggio è che dà la possibilità al paziente di effettuare il controllo senza essere vincolati né all'ora né al giorno dell'appuntamento. Qual è il futuro? Il futuro è quello di estendere e dislocare questi dispositivi anche nei presidi periferici della nostra ASP in modo da integrare quella famosa ma mai forse realizzata integrazione fra ospedale e territorio. Un'apparicchiatura di questo tipo che funziona con un collegamento in remoto paradossalmente può essere a disposizione non soltanto presso un presidio ospedaliero ma anche presso un'altra struttura territoriale dove ci sia un minimo di controllo rispetto all'accesso. È in un territorio così esteso come la provincia di Cosenza o se vogliamo viste le caratteristiche particolari di Regione Calabria direi che è una soluzione ottimale e all'avanguardia. Stamattina per la presentazione dello smart spot così si chiama l'apparicchiatura di cui al momento è dotato solo il nosocomio del Pollino la presenza del commissario dell'ASP di Cosenza Cinzia Bettelini e l'assessore regionale al Guelfer Gianluca Gallo è stato quest'ultimo a chiedere i necessari investimenti per un ospedale dove non c'è lungo degenza la chirurgia da rilanciare la pediatria in difficoltà l'ortopedia da costruire e dove mancano soprattutto i medici l'impegno del commissario per il rilancio dell'importante struttura sanitaria. Operazione di Carabinieri in quattro province fra Lombardia e Calabria Milano Varese Pavia e Reggio Calabria 11 gli arresti Milano Pavia Varese come Reggio Calabria il blizzo odierno dei Carabinieri in queste quattro province dà ulteriore dimostrazione della forza capillare dell'Andrangheta sul territorio nazionale a Legnano Lonate Pozzolo era attiva una vera e propria locale di Andrangheta collegata sia alla cosca farao Marincola di Ciro Marina ma evidentemente sostenuta da uomini provenienti da altri clan anche compresi quelli del Regino 11 arresti sono stati eseguiti in Lombardia e infatti a Reggio Calabria anche uomini delle cosche della zona sud della regione davano evidentemente il loro contributo alle attività criminali in Lombardia il blitz di oggi è considerato la naturale prosecuzione dell'operazione crimisa scattata nel 2017 l'inchiesta ha anche consentito di accertare evidenti elementi di corruzione all'interno di enti pubblici e ovviamente anche un'azione di condizionamento in riferimento a recenti campagne elettorali amministrative colpo al traffico di stupefacenti nel Vibonese scoperti dalla guardia di finanza sei quintali di marijuana 5200 piantine essiccate in un'azienda agricola la sostanza stupefacente sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro sono 5 gli arresti in questo caso i militari della guardia di finanza nell'azienda agricola dispezionare SR è raccolto scoperti i sei quintali di marijuana 5200 piantine di canapa 5 gli arresti nel Vibonese l'operazione delle fiamme gialle scattata dopo un inseguimento sulla 2 del Mediterraneo due auto all'uscita dell'autostrada alla vista in attesa di una pattuglia hanno cercato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga fermati e perquisiti i mezzi finanzieri hanno accertato la presenza di circa 40 kg di marijuana trasportati all'interno di 4 sacchi di colore nero che risultava essere stata acquistata poco prima presso un'azienda agricola nipitina della zona una volta giunti nell'azienda i militari della guardia di finanza hanno trovato un ulteriore quantitativo rilevante di sostanza stupefacente già essiccata ed imbustata nonché migliaia di piantine di canapa ancora coltivate in attesa di essiccazione l'impresa autorizzata alla coltivazione della canapa passativa era riuscita a creare una varietà che pur presentando un aspetto simile alla stessa conteneva un composto psicoattivo della pianta di gran lunga superiore al limite consentito la sostanza stupefacente sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro il procuratore della repubblica di Vibo Valencia Camillo Falbo che si è recato sul posto ha disposto l'arresto del responsabile due in carcere e tre ai domiciliari cambio della guardia reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Vibo avvicendamento nel reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia il colonnello Alessandro Corda è subentrato a Luca Romano e proviene dal nucleo investigativo di Brescia dove ha operato negli ultimi cinque anni le presentazioni ufficiali le ha presenziate il comandante provinciale Bruno Capece che ha annunciato l'arrivo anche del sostituto del maggiore Valerio Palmieri il capitano Alessandro Papuri proveniente dalla compagnia di Bracciano si è detto pronto per questa nuova avventura professionale il colonnello Corda con l'obiettivo di conseguire nuovi e importanti risultati nella lotta al malaffare è una terra difficile che merita appunto un'attenzione straordinaria e un impegno straordinario che io voglio garantire sin da adesso e tutta la mia squadra di ufficiali e collaboratori garantiranno allo stesso modo purtroppo ci sono ramificazioni molto ormai ampie e consolidate anche nel nord Italia quindi è un fenomeno che non mi è nuovo ovviamente poi ogni zona ha le sue peculiarità e diciamo il suo modo di esprimere determinate fenomenologie quindi non parto diciamo da zero ma dovrò comunque studiare per capire le modalità di espressione del potere dranghettistico sul posto che non sono le stesse probabilmente che si registrano ad altre latitudini la nostra rubrica sulla borsa vediamo chiusura negativa per gli euro listini in precedenza l'azionario aveva beneficiato soprattutto dei segnali di miglioramento dell'economia e dell'atteggiamento accomodante delle banche centrali oltre che delle speranze di trovare velocemente una cura contro il covid-19 sul fronte macro l'attività del settore dei servizi in Cina è cresciuta per il quarto mese consecutivo ad agosto mentre nell'eurozona il terziario ha evidenziato una crescita più debole rispetto al mese precedente e le vendite al dettaglio di luglio sono risultate inferiori alle attese a piazza a piazza affari il Futsmib e il Futs100 di Londra archiviano le contrattazioni in calo dell'1,5% il DAX di Francoforte a meno 1,4% il CAC 40 di Parigi a meno 0,4% poco mosso l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,1% oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 2% l'S&P 500 a meno 2,8% e il Nasdaq a meno 4,2% sul Forex l'eurodollaro scivola a 1,183 mentre il cambio tra biglietto verde e yen si riduce a 106,1 tra le materie prime prosegue il calo delle quotazioni del greggio con il Brent a meno 2,7% a 43,2 dollari e il VTI a meno 2,5% a 40,4 dollari al barile sull'obbligazionario lo spread BT e P-Bund si amplia nuovamente a 146 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,97% tornando a piazza affari gli acquisti premiano Exor a più 1,8 Pirelli a più 1,2 ed FCA a più 1,1% mentre arretra STM a meno 6,9% in scia alla debolezza del settore grazie e buon proseguimento di serata E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore vediamo Ben ritrovati da Meteo in Calabria la saccatura responsabile della rinfrescata di questi ultimi giorni tenderà a traslare nelle prossime ore verso est allontanandosi dalla nostra penisola e quindi anche dalla nostra regione dove comunque le temperature continueranno ad essere gradevoli e il tempo variabile passiamo alle previsioni in dettaglio domani passaggio di nubi innocue alte stratiformi con formazione durante il pomeriggio di modesta nuvolosità cumuliforme sui monti in estensione su alta Valle del Crati e Catanzarese Ionico dove potrebbero verificarsi eventuali isolati piovaschi ma poco significativi temperature stazionari passiamo a mari e venti domani si attiveranno venti moderati da nord sullo Ionio a causa di una lontana bassa pressione con minimo sulla Turchia tali venti renderanno il relativo mare mosso a tratti molto mosso nei bacini crotonesi a largo il Tirreno invece resterà poco mosso sotto venti deboli di direzione variabile con prevalenza dai quadranti occidentali durante la giornata per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria TG che finisce qui ci vediamo nelle prossime edizioni grazie per la vostra attenzione arrivederci e ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti